Via Giuseppe Mirri al Cortonaccio, guardate il degrado totale, qui siamo al fondo alla via dove c'è un deposito, ex deposito del Cotral, via Giuseppe Mirri, guardate lo stato di degrado, di abbandono di mobili completamente lasciati in questo stato appunto, dove non c'è una valorizzazione, non c'è un'azione di riqualificazione ex deposito del Cotral, ora c'è l'Astral che dovrebbe in qualche modo riqualificarlo, ma ad oggi nessun tipo di intervento è stato fatto dalla Regione Lazio, non c'è neanche un'azione di prospettiva, solo promesse, impegni non mantenuti, nei confronti della cittadinanza che abita qui il quarto municipio, ma soprattutto nei confronti dei cittadini in generale della Regione Lazio che vedono sperperato il loro denaro. Anche su questo noi faremo un'azione chiara, diretta nei confronti della Corte dei Conti.